Stai tanto? Sì, adesso vado? Sì. Sono 20 anni e mi ricordo che quando mi ero in un'ora di 2004 dove sono fatto fare Come sai? E' bello? E' bello. E' un'ora bellissimo. Poi era una carata molto forte e che mi sono stati mi è venuto ad ascoltarmi i nostri lettori amministrati vogliono sapere qual ci sono se tornerai in casa con l'Alevechi nel 2000 oppure non ci sarai prendendo l'interno non ci sarai prendendo l'interno quindi la vostra muore con la velocità ma con il tempo che si torna quindi l'Alevechi può stare prendendo lì ma questo posto è una tante del e c'è il suo dolore da scrivere se ne vai da presto